Allora, consigliere Boron, che cosa abbiamo divagato su altre questioni che comunque sono sempre relative alla struttura ospedaliere. Relativamente queste problematiche che ha enunciato il dottore sono reali e di fatto non siamo così competitivi, non riusciamo ad esserlo perché ci sono una serie di questioni che è difficile anche risolvere, abbiamo visto. Piccola parentesi. Non siamo messi male come la Calabria, ma niente da dire, però bisogna guardare sempre avanti. Piccola parentesi, solo per comunicazioni e servizi, se no non si riesce a avere un'informazione completa. In Veneto non ci sono ticket sanitari, i ticket applicati sono definiti da finanziarie dello Stato e molto spesso, anzi sempre, quando è più conveniente fare una visita privata piuttosto che con il ticket pubblico è perché i ticket imposti noi non li possiamo togliere, se no non ci sarebbe questa differenza per cui una visita specialistica, un esame privato costa meno del pubblico. Quando viene rilasciata, se uno va a fare una visita, oggi viene rilasciato anche il costo della visita e prestazione e cosa incidono i ticket. Se fanno la differenza fra quello che costa e i ticket, se potessero togliere, vedono che costa meno ovviamente che andare a privato. Tanto per essere chiari se no sembra che il privato costi meno del pubblico, non è così. L'attrattività poi del sistema Veneto è scritto nei numeri, infatti noi nel riparto che abbiamo votato quest'anno abbiamo preso atto di circa 150 milioni di Euro che sono entrati nelle casse del sistema regionale per attrattività di fuori regione. Quindi è chiaro che nei numeri che il sistema Veneto attrae e in particolar modo su due situazioni, Padova e Verona. Quindi le aziende ospedaliere che sono ovviamente un'attrattività perché c'è la parte di assistenza, la parte chirurgica, la parte di grande specializzazione, pensiamo solo che Padova ad esempio è prima in Europa sulle malattie rare, quindi attrae e dall'altra parte il mondo universitario che ha comunque il suo blasone a livello internazionale fa da attrattività. Ed è il motivo per cui giustamente e concordo con quanto diceva il dottor Avruscio, nel momento in cui ho un'attrattività per vocazione perché il professionista, l'università, il grande medico richiama il paziente. Se c'è un grande chirurgo, un grande cardiochirurgo, un grande ortopedico, il giocatore internazionale viene ad operarsi qui perché? Perché riconosce il grande medico. Se c'è un grande cardiochirurgo è ovvio che chi può pagare, provenga dagli Stati Uniti, dai paesi arabi o dalla Russia, dirà io vado dal cardiochirurgo di grande vocazione. E qui interviene? No, ma dicevo, e qui interviene il problema che si era posto tanti anni fa, Intramenia, Legge Bindi, che diceva, io ritengo oltretutto che aveva un senso logico, diceva, se noi vogliamo che il sistema pubblico rimanga di eccellenza dobbiamo mantenere professionisti ad altissimo livello nel sistema pubblico. E pertanto gli diamo una possibilità che è quella di dire, fai anche la tua prestazione privata all'interno del mondo pubblico che alla fine attrae nel sistema. Se poi diciamo, oggi forse è arrivato il momento di fare una rivisitazione, una taratura di una legge fatta molti anni fa, dico sì, andiamo a vedere, analizziamo quello che si è prodotto, i vantaggi e gli svantaggi, cerchiamo di fare una rivisitazione della legge come si fa di qualsiasi legge quando è passato tanti anni. Però se noi non poniamo la discussione, allora forse bisognerebbe entrare sul tema che il Presidente Zaia ha posto quando si è parlato di autonomia, ha detto, datemi la libertà di poter pagare i professionisti come li paga il privato e allora puoi togliere anche l'intramenia, io tolgo l'intramenia però gli dico a quel professionista non andare sulla clinica privata che ti paga perché te li do io e diventa attrattivo per il pubblico. Ma fino a quando la legge mi impone il tetto di spesa per il medico di base come per il grande cardiochirurgo o il grande ortopedico, io o do una possibilità di sfogo oppure avremo la fuga veramente dei grandi professionisti che sono quelli che fanno attrattività. A Padova ne abbiamo avuto un esempio qualche anno fa con un grande ortopedico che è passato dal pubblico al privato e di punto in bianco la lista d'attesa dal pubblico si è spostata nel privato, si è sgonfiata. Qua abbiamo i numeri che hanno sollecitato, che hanno forse allarmato i cittadini, sono stati pubblicati anche sui giornali, 40 medici che si sono licenziati negli ultimi mesi dalle USL, 40, passare al piatto, sono numeri, 14 il primato dei licenziamenti spetta l'azienda polesana, 9 il numero dei medici fuggiti per esempio dall'USL e Uganea, in posizioni anche di non poco rilievo. Sa qual è l'effetto distorto, proprio per parlare di conti pubblici, che se un grande professionista va via dal sistema pubblico e va nel privato, è vero che qui si sgonfia la lista d'attesa e si rigonfia nel sistema privato, ma quando il paziente va a operarsi lì, loro presentano il conto al pubblico, noi paghiamo lo stesso. Dire che l'intramenia è tutta sbagliata senza definire i contorni del sistema e capire che il pubblico ha bisogno di attrattività e l'attrattività la fai con le strutture a tecnologia, ma la fai anche col grande professionista, il grande medico e in qualche modo se non gli dai l'edificio, la struttura dove può fare chirurgia ad altissimo livello, la tecnologia ovviamente di ultima generazione e magari se lo chiede anche la possibilità di avere un adeguamento di reddito a quello che è il mercato, non è che dobbiamo lamentarsi perché noi abbiamo queste ristrettezze, i tetti di spesa ovviamente sulla redditualità dei professionisti, di tutti i dipendenti pubblici, abbiamo il tetto di spesa sul costo del personale in generale e di là non possiamo andare e poi ovviamente abbiamo anche i tetti di spesa, la possibilità diciamo di dire siamo liberi di investire su quello che abbiamo capacità di fare perché non è che se noi domani mattina abbiamo economie di scala e possiamo investire in certe cose siamo liberi di farlo sempre. Azienda Zero quando è nata è nata anche per questo contesto perché lo sappiamo tutti come funziona il sistema pubblico, specialmente in Italia, se io sono bravo ad amministrare quegli 8 miliardi e 7 e riesco a fare economie, l'anno dopo mi guardano il riparto e mi dicono beh ne hai avanzati 100 te ne diamo 8 e 6 quest'anno, quindi Azienda Zero diventa anche una macchina di efficienza e di efficientamento del sistema ma anche una salvaguardia per poter dire i risparmi che facciamo li mettiamo in investimento su personale, strutture e tecnologia, la macchina sanitaria è molto complessa e non si può risolvere così con l'immediatezza con due battute. Ritornando sul discorso sempre della libera professione, forse un dato che non si sa ma soltanto il 10% dei medici che fa, svolge libera professione, molti non la svolgono anche proprio per le caratteristiche del proprio lavoro, ma un dato interessante a proposito appunto di assicurazione di libera scelta hanno pubblicato poi sul giornale di Vicenza anche una serie di libri di professione ho visto questi guadagni insomma di libera professione che erano alcuni anche più alti di palo perché ho chiamato un mio amico che conoscevo, lui mi ha spiegato, ha detto qui abbiamo la caserma Ederle gli americani, gli americani hanno le assicurazioni eccetera, per cui ecco perché c'è questo insomma E dopo bisogna dire che comunque il medico pubblico che fa libera professione in tre medie non lo può fare su strutture private che hanno accettamento con che ragione Assolutamente no, anzi può fare la libera professione sulle prestazioni che svolge e viene controllata Quante prestazioni svolge perché non deve superare il 10% delle prestazioni che svolge Tra l'altro quindi c'è anche questa Però ecco io vorrei porre però anche l'accendo anche su un'altra considerazione Secondo me però deve esserci un equilibrio fra quello che è il privato e quello che è il pubblico Proprio insomma notizie che c'è da riflettere Come mai delle multinazionali hanno comprato tanti laboratori di analisi su Padova Perché Padova è diventato un attratto Perché hanno fatto questo shopping? Che strategia c'è voglio dire? Allora per cui il pubblico secondo me rimane come dire per costituzione Un pilastro da difendere questo indipendentemente da qualsiasi visione Poi io sono uno che dice che il pubblico non deve fare ciò che il privato fa Insomma no, anzi bisogna anche sostenerlo Però ricordiamoci che ci sono come dire Il privato lo fa perché c'è uno scopo di lucro, lo fa benissimo poi eccetera Ed va salvaguardato per carità Però insomma il pubblico ti garantisce anche in perdita Cioè un trappianto quanto costa? Un trappianto il privato non lo farà mai e poi mai no? Però ci vuole un equilibrio in queste cose Proprio per evitare demotivazioni da parte del pubblico Per esempio non so sabato, domenica, le sale operatorie funzionano Bisogna trovare in modo che funzionino Perché non si può dire beh io risparmio sul personale Perché il privato mi costa il DRG ma non mi costa il personale Perché poi ci sono altre dinamiche Io devo vedere anche la qualità Devo vedere tante cose che insomma mi portano poi a una certa Io vedo che questa fuga, questo organico E quindi ritorno sempre all'inizio Bisogna trovare il modo di sostenerlo Di sostenere, trovare un giusto equilibrio Fra quello che è effettivamente la spesa su privato convenzionato Perché poi al privato convenzionato secondo me conviene la convenzione Perché poi offre tutta una serie di attività private E poi c'è un'altra cosa E effettivamente in alcune prestazioni conviene farlo nel privato convenzionato Tipo una semplice ecografia, un semplice esame del sangue, un emocromo Perché con il ticket ti costa meno farlo sul privato Però quando poco poco comincia a salire su esami immunologici Non c'è paragone Tant'è vero che la trasparenza vuole che il cittadino quando va a fare degli esami E allora trova effettivamente quanto realmente costa quell'esame Rispetto al contributo di spesa che ha fatto E c'è anche poi un'altra considerazione Che ci sono le esenzioni per patologia Cioè se uno è esente non per reddito ma perché è una patologia Ti viene riconosciuto l'esenzione per quella patologia Quindi voglio dire per fortuna il nostro sistema è socio-sanitario ancora Non come altri sistemi perché questa va assolutamente E questo a livello nazionale l'esenzione patologia Esenzione patologia a livello nazionale Poi ci sono anche la regione credo che abbia anche Dipende, poi la regione fa degli extra-LEA Ci sono delle malattie o comunque delle condizioni Che non sono riconosciute in LEA nazionale Ad esempio l'ultimo aggiornamento LEA nazionale È stato preso proprio da molte patologie Che erano ad esempio in Veneto Diciamo riconosciute E che a livello nazionale hanno detto Bene, visto che le riconoscete Le mettiamo dentro ai LEA e le garantiamo a tutti Però non hanno adeguato il budget Ecco, quindi hanno fatto un po' Però solo per precisare Tutto questo privato Che poi è molto Diciamo nella parte discorsiva Ma nella parte pratica di sostanza Il Veneto ha una grande salvaguardia del pubblico C'è precisamente poi in due città Che è Padova, ospedali Parliamo di ospedali, cliniche Perché poi gli ambulatori o i laboratori sono altre cose Ma gli ospedali Padova, che è Abano E Verona, che è Nogano Perché? Perché è normale Ci sono due grandi aziende ospedaliere Ci sono due grandi università C'è un'attrazione particolare Da fuori regione Proprio per le capacità dei professionisti E pertanto ha dato sfogo In questo caso i privati sono di grandissimo supporto Al sistema pubblico Altrimenti Proprio dei pazienti che loro vedono nel sistema privato Andrebbero a finire da altre parti Vediamo se questa può essere la risposta Al grande business Insomma, di fatto Comunque al grande shopping che viene fatto Da parte di questi multinazionali Nel territorio padovano Ma lì sulla questione degli acquisti Secondo me Uno Ci sono anche i fondi di investimento Che oggi non sanno più dove investire Quindi Sì, ma abbiamo toccato il tema della sanità integrativa Che diventa parallela Alla sanità pubblica Ma anche nel sociale E che diventa di fatto un consumismo enorme di sanità Perché si trovano con pacchetti già pagati Dalle assicurazioni Uno dice, visto che ce l'ho E quella è tutta sanità che va nel privato Nel privato Va a gonfiare Ma di fatto Ma guarda C'è un fatto oggi che sta avvenendo Nel sanitario Ma soprattutto nel sociale I grandi fondi di investimento Che hanno quantità di denaro enorme da investire Non trovano più conveniente Fare la speculazione borsistica La finanza E pertanto entrano negli investimenti pratici Una volta si diceva l'olio di gomito Cioè quello che si tocca E ovviamente avendo quantità di denaro Hanno trovato e hanno capito Non ci vuole tanto Che nel sistema sanitario E nel sistema sociale Ci sono possibilità di rendite minime Parlano di un 6% Che non avrebbero nel sistema finanziario Tutto lì E quindi si riversano ovviamente Gli interessi in questo mondo Chiarissimo Allora Adesso dire dollo sparalo subito Tenga a mente Andiamo in pubblicità Pochi secondi Così è tempo di parlare Pubblicità e poi torniamo insieme Sparare